12 multe per un totale di 3.360 euro. E' questo l'importo complessivo pagato dal ristoratore Cristian Marinelli, stanzionato insieme a 11 commensali a metà novembre per aver tenuto aperto domenica pranzo il suo locale a Sant'Andrea in Villis. Due giorni prima infatti il governo aveva annunciato il passaggio delle marche da zona gialla ad arancione con la conseguente chiusura di bar e ristoranti. Una decisione non condivisa da Marinelli e da tanti colleghi del settore che con poco preavviso avrebbero dovuto avvisare clienti già prenotati e disfarsi del cibo già acquistato. Tant'è che alcuni avevano deciso di donarlo, lui invece aveva scelto di aprire comunque le porte dell'attività e di scrivere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere di liberare Roma dai criminali che governano l'Italia. Un concetto che ha ribadito anche questa mattina nel collegamento in diretta con lo studio di Fano TV. Questo non è un modo di governare un paese, non è serio, quando diciamo che dobbiamo essere tutti d'accordo per aiutarci e far finire questa pandemia, dobbiamo essere tutti d'accordo, il parrucchiere no, l'estetista sì, quello che fa i tatuaggi sì, può stare aperto, la chiesa è aperta, i mercati sono aperti, quindi chiudiamo tutti. Io sono d'accordissimo a chiudere, stiamo un mese, due mesi dentro casa, rimbocchiamoci le maniche e basta, ne usciamo, ma così io mi sento preso in giro. Al termine del collegamento abbiamo raggiunto Marinelli e durante l'incontro ci ha raccontato anche della riconoscenza dimostrata dai commensali sanzionati il 15 novembre scorso. Sì, esatto, a parte mi hanno chiamato per ringraziarmi, qualcuno mi ha lasciato anche una lettera nella cassetta delle poste, che fa molto molto piacere, ma io ripeto, come avevo detto quel giorno, l'avrei fatto volentieri, l'ho fatto volentieri, perché la mia era una protesta di persona stanca di queste cose e quindi dovevo fare qualcosa anche se mi è costato, ma va bene, insomma, si fa. C'erano più clienti però quel giorno, ma alla fine sono stati multati solo quelli fuori comune? Esatto, esatto, di questo ci sarebbe da parlare, ma forse cosa vogliamo aggiungere? Non aggiungiamo niente, dai, va bene così, cioè se non si può fare, io penso che non si può fare comune di Fano o comune di Pesaro. E le iniziative di Christian non si fermano qui perché sabato scorso ha inviato una richiesta tramite PEC al comune di Fano e all'assessore Cucchiarini. Visto e considerato che la mia è stata una protesta civile ed educata, si legge nel documento, e visto il modo in cui veniamo trattati, umiliati e avvisati con poco margine di organizzazione per tutti i DPCM emessi, chiedo che la somma da me versata sia devoluta in beneficenza. Mi sono sentito dire, avete ragione, è un momento difficile, allora io chiedo questo, siccome abbiamo ragione, è un momento difficile, e io non ho pensato per un minuto di fare, diciamo, come si dice, di fare protesta per le multe o di fare ricorso per non pagarle, le ho pagate tutte, subito, però vorrei che questi soldi il comune, se può, li dia in beneficenza, magari non so, alla Caritas, dove ci sono persone che più bisognone di noi, in questo momento difficile, che è difficile anche mangiare, poter aiutare queste persone. vediamo, ho scritto al comune questa cosa, adesso vediamo cosa mi rispondono ovviamente.